andava il gioco quindi dovevo per forza di iniziarlo devo metterla per camera non so più dove si faceva vabbè facciamo a meno guarda tutto ritirato se non mi pare ragazzi oggi è uscita i territori di caccia io l'ho provato avevo fatto una partita e sono stato io a uccidere cosa ma non mi sembra così un grado che a me non piace così tanto quindi oggi proverò a fare una partita come al solito in solitario da solo sulla nuova cosa classica esponiamo di vincere devo dire che la season 5 è molto bella è uscita l'altro ieri se non mi pare se l'altro ieri ed è bella nient'altro di dire è bella season 5 anche se alcune cose le hanno tolte tipo alcune trappole che erano davvero belle quelle trappole ed è un gran peccato avele tolto ma li hanno tolto io stesso ma hanno anche aggiunto alcune cose finire la coppia è la cosa l'importante che lo sta andando no 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 vabbè dai sono caduto ma qua non perdiamo vita non si muore qua dobbiamo ancora iniziare prima di morire spero di non morire ed essere l'ultimo in vita l'ultima cioè voglio ammazzare l'ultima e vincere ok le skin più belle sono il secondo più brutto vabbè ci sono altre skin molto più brutte della mia quindi calma diamo abiti dietro nel mio posto preferito e dopo ci sta anche scendendo il cosa il lancio improvviso il rifornimento quindi anche la mappa l'hanno modificato molto la città le città tipo viti dire non c'era quel palazzo ma ce n'era un altro più grande e devo dire che quella quel palazzo è più bello di questo perché era quello più grande trotto e trovavi più roba di questo sono a terra no cerchiamo di non morire si sottola con chiama più prima degli altri che sono già dentro no no mio dio mio dio non c'è niente altro la presa lui cavolo se non sono fregato perché no mio dio mio dio tu sei fregato no 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 che cavolo dai no mi stava proprio inseguendo sto qua purtroppo 36 d'argento non ci voleva per niente non ci voleva dopo fare uno o in coppia un gruppo non so anche questo è il sedile è iettabile è proprio strano però l'ho provato molto bene ed è una cosa davvero fico perché se sei dentro la tempesta e deve andare in safe lo puoi usare cioè ti ti lancia in alto tu fai così ti lancia in alto vai ma sarai te a dover aprire il paracadute non se l'apre da sola è come questo il trampolino che per accadute si apre da sola ma questo va è quello te se no muore se mi sbaglio c'erano anche altre cose che hanno tolto vabbè ragazzi questa volta abbiamo la skin migliore tra tutti più in evidenza sono questi i campioni dell'amore sono questi ma colui che lancia l'amore sono io bella la cosa più bella è che l'autobus ha lo stesso colore della mia e della mia skin tutto uguale questo è anche piacerebbe anche prima era così non è che così soltanto perché sono quello che lanciano modello l'hanno fatto così loro non mi ricordo il nome di quelli che hanno creato il gioco però sarebbe più bello se mettessero che si può si potesse entrare nei veicoli tipo su fortnite che puoi entrare sulla macchina quella da golf tipo centri no c'è un po di vita però non sono morto la cosa importante diamo le vende di ciò appena scelti appena scelti usiamo le vende ah quella l'ho boccata io ah cosa succede? ah ah ok fa adesso scriviamo qua e vediamo cosa c'è dentro perfetto andiamo a prendere la casa che è tutta mia no no eh la capo ci sta no 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 quello ce la togliamo se no si cade che non è un'altra la scartiamo oh la c'è una scar c'è la scar non l'ho ancora scordata io credo l'ho scordata finalmente la scar abbiamo trovato la scar blu adesso dobbiamo trovare una kill dobbiamo fare una kill beh sono dentro le 6 anche se un po stavo uscendo siamo assi soltanto in 10 per ora o in 9 che a volte sono in 100 a volte il 99 poco imposta l'unica cosa che dovevo fare è cercare di arrivare prima fare la vittoria reale mancano 24 secondi devo dire che la mappa è stata molto cambiata che tutto questo verde tutta sta natura non c'era più ma c'era poca natura qua era così vittoria quasi così ma qua la torre di controllo non si chiama così si non era così se non sbaglio era così non lo so alcune in alcune città non ci andavo tipo l'occhio del cielo non era così praticamente al palmo burgo neanche molti altri posti non erano così mi metto in mezzo anch'io mi metto in mezzo anch'io se si è serviva bene quello c'è per scappare l'altro che lo sta inseguendo l'ha ucciso che vedi no stanno ancora fai tappi o forse sta cercando di sparare ma che non mi ha visto bene devo cercare di non cadere comunque sta sparando sto qua e il materiale io qua c'è finito Eccati, eccati No, oh mio Dio, oh mio Dio Per futuro che ho perso soltanto i cosi Ho perso soltanto lo scudo Su Fortnite non si perde lo scudo Ma si perde proprio la vita Bene, bene, fatto fuori Mi ha tolto anche molto molto del bello scuro Moltissimo Ok, bene, scendere E spende, scendere, 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 scendere Scendere, scendere, scendere 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 C'è qualcun altro che mi spara Il cavolo è Mare di Io Bu 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 che potrebbe essere devo stare anch'io a non essere cecchinato e se mi cecchina proprio è la fine ha deciso di vendere lui stesso va bene rispetto alla tua decisione cosa vuoi fare no va bene dai togliti ecco 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 ce n'è un altro stavolta ci provo con questo da queste parti o ha deciso anche di venire lui stessa si 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 ha deciso lui adesso e te ne pentirai no te ne pentirai adesso dai 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 che ti faccio fare oddio ti mette una vita a caricare no no stai scusa per morire no ancora 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 sono morto un altro sono morto un altro quello che avevo la più bella non era più forte a quanto pare cerchiamo di vincere questa almeno questa ma avevo detto che avrei fatto in copia un gruppo vabbè lo farò nel prossimo in quella dopo lo farò in quella fa lui per me viene prego continui eccomi qua il terzo oh questa è la skin nuova è stra che bella è una delle skin nuove della season 5 non lo so ma è molto bella mi piace stra che tanto infatti voglio shopparmela eccomi qui avrei scendere ok sopra la montagna ok ho trovato la S1297 bianca c'è la skateboard bene anche questo della season 5 una figata totale però ci sono alcune cose che mi hanno detto che non ho ancora trovato tipo ci sono alcuni youtuber che hanno fatto il trailer della season 5 ma avevano detto che ci sarebbe stato anche lo snowboard tipo ma non questo mostrava un'altra mostrava un'altra ma io non la vedo quella non l'ho ancora trovata se c'è non l'ho trovata anche se su Fortnite c'è proviamo qua no oh mio dio se vado la muoio cavolo ma è stato 41 di vita faccio questa e come faccio scendere adesso vabbè utilizziamo i materiali ma prima li devo prendere non è abbastanza materiale per scendere non è abbastanza materiale per scendere ah grazie no sono sempre in pericolo di vita sempre aumentiamo di livello ok c'è la gusse almeno un'altra ma ce la facciamo probabilmente sono tutti bianchi in queste case trovano tutto bianco soltanto le trovi orarie o epiche sulle casse io prima ho trovato il minigun e grazie a quello ho vinto no oh mio dio un di vita beh meglio di 5 anzi di 41 c'è qualcuno che spada vabbè è stata una pessima idea furbo sto qua ah sei la? no ce n'è un altro che adesso arriva? ragazzi ragazzi non sono fregato occupiamoci di sto qua quattro devo trovare il minigun aspettate ok adesso no 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 oh mio dio no no oh mio dio oh mio dio no noi facciamoci il medico veloce prima che arriva veloce è arrivato bene fatto preparati a morire furbo si è messo l'acqua non essere capito vabbè adesso muore e basta incredibile ragazzi in quella situazione critica me lo sono cavato due 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 kg come prima due ok non me ne faccio niente di tutte queste vediamo questa e questa la cosa non me ne servono due ne basta una una oh mio dio da dove cavolo è arrivato mi ha cecchinato wow questo qua o sta qua è bravo eh cavolo è stato veloce ma come l'ha fatta come diamine l'ha fatta ok adesso facciamo in caffia e cerchiamo di vincerla ecco qua con no vuol dire che non ho ancora scritto il nome non si è ancora deciso di darsi un nome forse non so come si fa o è nuovo del gioco nuovo in questo gioco anche una volta mi chiamavo così all'inizio ti ti danno il nome di un numero ma dopo un po' se vuoi vai su impostazioni e dove ho schiacciato prima sul sul tuo coso sulla faccia del tuo avatar del tuo personaggio del tuo skin come cavolo lo volete chiamare la vai la senza problemi ti cambi il nome come ho fatto io in questione che sono appena niente anche quella è nostra queste skin sono stra belle ma forse era la connessione che era troppo lente infatti me l'ha assaltata dove andiamo cerchiamo di invitarla così mi seguo mi segue lui no bene seguimi no non ti seguo io cioè te che mi devi seguire spieghiamoci qua a me avrà la skin normale è quella che ti danno quando inizi il gioco seguiamo quello eh lo immaginavo anche il paracaduto è normale già tutto normale bene ha scavato più veloce di me prendo io questa grazie e seguimi dove vai? che cavolo se ne va se ne va per conto su io me ne va per conto mio se vuole non mi frega niente dj 84 mamma mia dj 84 sti qua sono veloci hanno ammazzato le persone e non hanno pietà per nessuno siamo appena iniziati siamo già 84 anzi 81 78 ah adesso mi stai seguendo ancora la luce alle forse forse alcune trappole hanno fatto che li li dovrai trovare ma non dovrai creare a differenza di altri che devi trovare l'orso quella blu adesso è blu ma prima era d'oro se mi sbaglio si prendi l'orso e e poi poi farti la tua trappola se hai i cosi giusti tipo su questo bisogna averne sei di quelli che trovi nell'orso in questo caso io ne ho zero questa quattro questa quattro questa sei questa sei anche prima era tre se non mi sbaglio va bene qualche materiale abbiamo c'è 64 60 in un secondo sono molte sono molte altre persone ok aumentiamo il livello no tu continua a seguirmi e non morirai se vuoi morire vattene tanto tu quando avrai bisogno dei rinforzi quando avrai bisogno del cosa come si dice che non mi viene quando dovrai rianimarti non ci sarà io ho quella d'oro quella verde lui ha quella verde che è bianca praticamente perché è normale qui e la facciamo e ve la facciamo il gol mettiamola la bene perfetto grazie era l'unica che sei stupido adesso metto un'altra oddio ci stanno sparando mi hanno beccato io non so come si gioca e devo stargli dietro sennò se muore io sarò contro altre squadre bravo l'ha messo giù non mi sape bene non mi sape non mi sape bene adesso sono sicuro che troverò molta gente tipo quello si lo sapevo 70 di oh mio dio sto qua che sta correndo come un pazzo no cavolo mi immaginavo il contrario è adottima mossa ragazzi io che salvo lui non lui che salva me ecco qua per colpa mia abbiamo perso per colpa mia abbiamo perso ancora meno 36 di bronzo cavolo no in copia no facciamo solo basta così l'ultima partita e dopo stacco speriamo che questo duri tanto la mia prima vittoria l'ho fatta di sera e di notte mentre dovevo dormire invece non stavo dormendo gioco alla fine riesco a vincere è stata una cosa bellissima vince per la prima volta è una cosa fantastica perché non ha mai vinto eh vince per la prima volta oh perché l'hai distrutta? anche dai 4 secondi 3 2 1 ancora secondo me secondo me questa è la skin è la skin più bella ma conta anche l'arma e gli accessori che hai quello è natalizia anche il paracadute è vero l'ho dimenticato vediamoci vediamoci questa partita va praticamente vinta un'altra partita vediamo la prima la prima che vi ho fatto Devo stare attento Se no Se no sono fregati Non ci sono armi Se sopra ci sono armi Sotto non ci sono armi Oh mio dio Cavolo E dai E dai E sta qua L'hanno stato prima E io devo staccare Ragazzi ci vediamo la prossima Forse stasera Non lo so domani farò un'altra live E mi raccomando Scrivetevi al mio canale su youtube Che mi chiamo il game E lasciate un bel mi piace